37 gli indagati chiamati a comparire dinanzi alla giudice Amelia Monteleone il prossimo 27 gennaio nell'ambito del procedimento penale scaturito dall'indagine Iceberg. Un'indagine che è partita nel settembre del 2019 e scaturisce da una complessa attività di indagine che si è sviluppata dal novembre del 2019 in poi ad opera delle stazioni dei carabinieri di Ardore Bovalino e coordinata costantemente dalla procura di Locri. Un'indagine che ha permesso di dimostrare l'operatività di un gruppo ritenuto attivo nei comuni Locri Day riconducibile ad elementi appartenenti alla locale comunità Rom, storicamente radicata sul territorio in posizione ritenuta dagli inquirenti non conflittuale e non concorrenziale con la criminalità organizzata. Gli inquirenti hanno ricostruito e documentato reati che vanno dai furti in abitazione alla recitazione allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla detenzione abusiva di armi. Reati perpetrati nei comuni di Ardore, Bovalino, Bianco, Brancaleone, Caolonia, Locri, Marina di Gioiosa Ionica, Roccella Ionica, San Luca, Sant'Ilario dello Ioni e Siderno.